salve a tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come velocizzare al meglio windows 11 grazie a tantissimi metodi che mostrerò in questo tutorial ovviamente se hai passato a windows 11 vuoi velocizzare migliorare così le prestazioni al sistema operativo quindi hai i requisiti se tu avevi windows 7 8.1 o windows 10 avevi i requisiti per passare a windows 11 però lag sul sistema operativo ci sono metodi per velocizzarlo quindi in questo caso andiamo prima sul nostro sistema tasto destro sul logo di windows 11 qua sopra vai sul sistema vai a scrivere così archi impostazioni di archiviazione andiamo prima a cancellare così i file temporanei tutti i file che non ci servono sul nostro pc ovviamente consigli per la polizia risorse di archiviazione ottimizzate nessuna azione richiesta ci clicchiamo sopra come puoi vedere ci sono varie cose nel cestino da eliminare ovviamente app inutilizzate file synchronizzati con il cloud file di grandi dimensioni o unutilizzati ed eccoli qua ovviamente per cancellare tutto eliminare tutti questi file temporanei andiamo su file temporanei eccoli qua file di ottimizzazione ricavi facciamo rimuovi file possiamo anche quindi sta rimuovendo pure i vecchi aggiornamenti che abbiamo fatto sul nostro windows update per esempio tu hai scaricato il tuo aggiornamento e lo hai installato perfettamente quindi un aggiornamento che hai fatto tanti mesi fa però hai ancora il download di quello aggiornamento che non ti serve più quindi grazie ai file temporanei ha rimosso del tutto questa roba qua quindi ora andiamo direttamente su privacy e sicurezza andiamo su generale ed eccoli qua consente alle app di mostrarmi annunci personalizzati se non vogli annunci sul tuo sistema operativo toglili disattivali consente a windows di migliorare start e risultati della ricerca questo qua e la ricerca file disattiva mostra notifiche nell'app impostazioni quando questa opzione è attivata le notifiche copiato vengono ancora visualizzate ovviamente notifiche come queste qua che escono qua sotto come per esempio una chiavetta usb collegata esce la notifica oppure aggiornamento del sistema e altre cose così però mostra notifiche nell'app impostazioni io lo tolgo e non mi serve quindi andiamo adesso su ora andiamo di nuovo su privacy e sicurezza e andiamo direttamente su comandi vocali se in questo caso non vuoi usare i comandi vocali quindi usando la tua voce per accedere a varie applicazioni microsoft e altri servizi disattiva così il riconoscimento vocale online torniamo su privacy e sicurezza poi andiamo su privacy e sicurezza e vai su feedback e diagnostica ci sono elimina dati diagnostica se hai vari dati che hai inviato a microsoft elimina ultimi casi dimensioni 21 marzo e lo eliminati e metto disattivato privacy e sicurezza scendiamo fino a giù fino a trovare così il percorso servizi di posizione quindi localizzazione gps ovviamente sul pc poco di serve se hai una postazione tutta tua a casa un pc fisso con monitor collegati tutto e tutto non ti serve questo però se hai un portatile si perde il portatile però c'è ancora il servizio di posizione attivato è utile quindi puoi trovare il tuo portatile io ovviamente che ho il pc fisso non mi serve tolgo tutto non mi serve mi rallenta solamente il sistema vado su privacy e sicurezza vado su videocamera ovviamente l'opzione per disattivare così la videocamera fotocamera è per quelli che non ce l'hanno quindi se tu hai un pc fisso però non hai una webcam non ti serve se hai un portatile c'è la webcam integrata dentro ti serve invece quindi tienilo attivo io ovviamente ho una webcam e mi serve soprattutto sulla fotocamera il game bar non mi serve quindi lo tolgo hub di feedback per parlare con le altre persone quindi la webcam ti può servire quindi devi attivarla sulle impostazioni microsoft store non ti serve microsoft teams non ti serve whatsapp invece attivo perché se devo parlare con qualcuno attivo anche la webcam xbox non mi serve è questo qua l'esperienza del pacchetto di windows che non ci serve e basta andiamo su privacy e sicurezza microfono lo lasciamo stare attivazione vocale ed eccolo qua come ho detto prima se non usi il riconoscimento vocale toglilo io non lo uso notifiche 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 di sistema consente le app di accedere alle notifiche io tolgo questo calendario chiamate telefoniche mail attività messaggistica radio eccola qua se non ascolti radio sul tuo sistema se è sul tuo pc toglila non ti serve video immagino immagino documenti file system questa qua questa roba qua ti può servire le ultime cose ora passiamo direttamente alle notifiche quindi andiamo sul sistema e andiamo su notifiche ed eccole qua notifiche da app ed altri mittenti notizie non ci serve strumento di cattura che sarebbe lo screenshot quindi in questo caso se io apro così il strumento di cattura faccio più faccio una foto riuscirà così la notifica qua sotto ovviamente io lo tolgo poi andiamo su impostazioni aggiuntive ricevi consigli e suggerimenti quando usi suggerisci i modi per sfruttare al meglio windows questo lo tolgo ora passiamo direttamente alle applicazioni app eccole qua app installate qui ci sono tutte le applicazioni due che hai installato le applicazioni di windows quando installi windows 11 ti fa anche installare delle applicazioni a parte per il sistema che non ti servono ovviamente possiamo anche dire dello startup delle applicazioni che quando avvi il tuo pc quando accendi tuo pc si avviano pure le applicazioni che non ti servono più tipo per esempio come puoi vedere c'è l'applicazione pc manager c'è un video a riguardo di questo pc in managers come scaricarlo e installarlo e usarlo al meglio in alto a destra delle schede busta così le performance del tuo pc cancelliamo così file temporanei migliora così l'uso della memoria start up eccole qua come dicevo appena accendi il pc si avviano anche le applicazioni ed è qui io posso attivarle e disattivarle fare la scansione sulla sicurezza di windows per vedere se ci sono minacce che rallentano così il nostro sistema e ora passiamo direttamente a app app installate quindi applicazioni che non mi servono un'applicazione che avevo scaricato cancellato direttamente nella sua cartella quindi ho cancellato direttamente il percorso file del programma quindi ho cancellato direttamente i file e non ho disinstallato l'applicazione quindi faccio disinstalla impossibile trovare i file come ho detto ho cancellato i file però non ho disinstallato l'applicazione da qui ovviamente o lo fai su pc manager oppure lo fai direttamente sulle impostazioni di windows avvio ed eccola qua app avvio queste sono le applicazioni che si avviano quando accendi il pc ora andiamo direttamente su esegui e andiamo a scrivere s y s d m punto c p l ed eccole qua vai su avanzate prestazioni effetti visivi pianificazione processore utilizzo memoria e memoria virtuale impostazioni ed eccola qua regola in modo da ottenere le prestazioni migliori se hai un buon pc attiva questo se hai un pc meno potente vuoi velocizzare così il sistema regola in modo da ottenere le prestazioni migliori e faccio applica fatto basta game bar questo qua consente al controllo di aprire game bar se non usi controllo sul pc o non usi proprio niente di gioco lo usi solo per lavorare disattiva questa opzione andiamo indietro modalità gioco ottimizza il tuo pc per giocare disattiva gli elementi in background questo lo tengo attivo e impostazioni correlate grafica ovviamente qui per velocizzare al meglio le applicazioni per esempio io su un gioco arma 3 opzioni prestazioni elevate eserisco così dedico così la mia scheda video ad una volta fatto come ultimo passaggio andiamo su esegui e scrivi per cento tempo per cento ed ecco a voi i file immondizia tutti i file che si accumulano così nella cartella temporanea del sistema faccio controlla e cancello i file che mi fa cancellare ovviamente mi dice sempre che non posso alcuni file perché sono aperti come come puoi vedere OBS browser page perché sto registrando quindi se questo video ti è stato utilissimo su come migliorare le prestazioni velocizzare al meglio windows 11 se hai altri problemi commenta sotto al video mi raccomando fai sempre aggiornamenti su windows update per migliorare così le prestazioni al tuo computer per aggiornare sempre il pc è importante quindi su verifica disponibilità aggiornamenti se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao